SYNCOM, we have a problem. Ciao amico, cosa succede? Come faccio a smaltire il magazzino? Come aumento le vendite? Beh, ho capito. In questo caso c'è SYNCOM che con il suo servizio chiamato SYNCOMMERS aumenta vendite ed affari di aziende e professionisti. Come funziona SYNCOMMERS? Dopo un preliminare incontro strategico ed un accordo ben definito tra le parti gli esperti SYNCOMM si metteranno al lavoro offrendo i tuoi prodotti e servizi su tutti i mercati online più quotati tra cui anche GroupX.it che SYNCOMM gestisce in esclusiva. SYNCOMM può anche stoccare e spedire tutta la tua merce e pensare alla fase di post vendita mentre tu potrai pensare ad altro. e lo dirai a tutti con il sorriso in volto. e lo dirai a tutti con il sorriso in volto. e lo dirai a tutti con il sorriso in volto. e lo dirai a tutti con il sorriso in volto.